Ciao un saluto a tutti i nostri sostenitori. Spargete la voce. Continuate a mettere like. E ad iscrivervi. Grazie mille. Giulia va da suo padre entusiasta e gli dice. Papà ho finalmente trovato l'uomo della mia vita. Luca il figlio della sarta. Il padre gli dice. Mi spiace ma non puoi sposarlo. Io e sua mamma abbiamo avuto una storia. Per farla breve è tuo fratello. La figlia molto delusa va nella sua camera a piangere. Dopo alcuni mesi conosce un altro ragazzo e si innamorano. Va dal padre a dirglielo. Il padre felice per la figlia chiede chi è. Marco il figlio del verduriere. Il padre gli dice. Mi spiace ma non puoi sposarlo. Io e sua mamma abbiamo avuto una storia. per farla breve è tuo fratello. La figlia sempre più triste ed afflitta si ritira nella sua cameretta a piangere. Nel mentre sopraggiunge la madre. Amore dimmi cosa succede. Mi sono innamorata di un ragazzo e papà mi ha detto che non posso sposarlo perché è mio fratello. Amore stai serena. Tanto lui non è tuo padre.